Io non so davvero cosa fare, dottor Hartman. Forse abbiamo bisogno di un po' di tempo per pensarci. Non vogliamo fare un terribile errore, come quando ho pisciato accanto a quello gorroico. Ehi, amico, dobbiamo scappare! Quest'edificio è in fiamme! Ehi, bello, non adesso ho da fare. Comunque te lo dico io cosa fa in fiamme. È la mia uretra. È l'ultima volta che vado in un parco acquatico, te lo posso assicurare. Beh, non è del tutto vero, perché ho un groupon e non vorrei certo sprecarlo. E poi sai, i bambini... Ostra cacchio! Allora ero io il gorroico. Sei diventato ricco? Oh mio Dio, adoro! Lo so, eh! Vieni, ti porto a casa mia. Oh, andate via! Ma avevo fatto le uova alla diavola! Le hai fatte tu? Sai cosa voglio dire? Sì, le hai fatte tu. Bravo! Ehi, Stewie, sul serio. Grazie per avermi aiutato a riavere la patente. È stato un piacere, ma ora mi sei in debito. Questo vuol dire che un giorno io verrò da te a chiederti un favore. Ma devo sapere una cosa. Devo sapere ora che mi dirai di sì quando arriverà quel giorno. Eh, oh, ok. Andiamo a prendere un gelato! Andiamo? Che idioti queste due. Sul tetto della casa, clic clic clic, cala dal camino e si rompe il buon di pen... Oh, guardate, c'è un uomo che nonostante tutto dorme. Amico, svegliati. Stiamo per morire tutti. Come? Di che cosa sto parlando? Pensavo che dovessi svegliarti. Nessuno vuole morire nel sonno. Oh mio Dio! No! Io ho una famiglia! Ecco, così va meglio. Oh, eccola qui. Prendi questa, è molto importante. Qual è la cacca più grande che qualcuno abbia mai fatto? Andiamo, Peter. La defecazione record della storia è avvenuta nel 1998 da Ardis a Memphis, ad opera di Arita Franklin. Cacchio, devo a Chris 5 dollari. Chris, avevi ragione, eri 98. Ragazzi, apprezzo quello che cercate di fare, ma questo è un vero disastro. Poi non capite che significava quel pene per me. Noi facevamo tutto insieme. Anche le cose più piccole. E mentre slacciava lentamente il corsetto di seta, Jenny farebbe un fremito di anticipazione. Pensando alla notte che l'attendeva. Joe, grazie al cielo. Dobbiamo andare al Wicca Pau again subito. Puoi accompagnarci. No, no. Oddio, Joe ha scambiato il corpo con quello di Consuela. Vuol dire che tutta la città ha scambiato i corpi. Porca cazzozza, volevo dire tutta la città. Sono qui per una qualche ragione a illustrarvi il meteo nel corpo di un nero gigantesco. Ma che razza di venerdì è questo? Bizzarro! A te la linea, Tom. Notizia dell'ultima ora. A tutti i bambini, alle tre, cercate un camioncino blu nel parco. Ci sono tanti ghiaccioli gratis. Può, ne possiamo comprare un televisore. Spiacente, Chris, non abbiamo i soldi. Ho speso tutto per costruire quel rifugio anti-atomico che non usiamo mai. Perché non lo compriamo per il weekend? Guardiamo Elvis e lo riportiamo lunedì dicendo che non funziona. Cavolo, sei bastardo anche negli anni cinquant... Ma che cavolo? Sono diventato una madea? Oh, signore, questa volta mi serve una motosega. Non fare quello che stavo per fare io! No! No! Stai insudicendo qualcosa di meraviglioso! Oh, no! Oh, sì! Oh, è divertente! Ci sono tante voci diverse che escono da tante buche diverse! Ah, ah! Sì, fa silenzio. Io e gli amici vogliamo sentire i numeri. Tu e gli amici? Sono io che ti ho portato qui! Ah, sì? E lo sai che il Mayflower ha portato il fungo che poi è diventato la carestia delle patate? Di che diavolo stai parlando? Non lo so, mi sono preso quattro integratori. Sto sbarellando. Peter, sei qui per prenderti un po' di sbago, non il piano controllo. Senti, Joe, ho un po' da fare ora, quindi ti faccio rispondere dal pirata somalo di attacco in mare aperto. Joe, guardami negli occhi! Guardami negli occhi! È lui il capitano del bingo ora! Voi non sapete di cosa state parlando! Questa sera, quando mi metteranno la corona in testa, vivrò il momento più bello della mia vita! Ancora meglio di quando ho ricevuto il primo bacio! Grecia, hai un aspetto magnifico! Già, sai, non ho avuto figli. Oh, sì, certo. Ma cosa diavolo ci fai qui? Noi due non ci vediamo da vent'anni. Peter, ho ricevuto la tua lettera. Sì, quella in cui mi dicevi che non eri sicuro di voler sposare Lois e che invece avresti voluto sposare me. Grecia, ma te l'ho scritto un mucchio di tempo fa. Beh, la mia risposta è sì, Peter. Sì, anch'io voglio sposarti! Ma io ora sono felicemente, cioè moderatamente, relativamente, sono già sposato. Oh, allora credo che tua moglie abbia il diritto di sapere che pochi giorni prima delle nozze tu eri ancora innamorato di me. Oh, un nero ricatto! Grazie, Cleveland. Non saprei come altro chiamare quello che sta facendo, signora. Sì, hai ragione. Non funzionerebbe come i porno prima del sonoro. Beh, adesso basta, Peter. È ora di uscire fuori da... Che cosa diavolo? Oh, sì, abbiamo messo giù nel vecchio saltagrillo di Steve. Mi avevi detto che era un'imbracatura dei parà. Chiudi il becco, bebe Joe! Basta così, questa è la nostra casa, non la sede di una confraternita. Vi voglio tutti fuori da questa soffitta e subito! Ma no, non ce ne andiamo, ci stiamo divertendo troppo. Quagmire ci ha appena fatto l'imitazione di Eric McCormack. È una cosa impossibile. Quello che ha detto anch'io, ma poi l'ha fatta e io ho detto, ah, ok, sì, ci sei andato vicino. Bene, ti piace così tanto la tua soffitta, goditi la soffitta! Ci... ci ha appena chiusi dentro? Questa è l'impressione. Ragazzi, giratemi, non ho visto cos'è successo. Un tipo chiede al barista di raccomandargli un cocktail e il barista gli dice un cocktail grillo. Così il tipo ordina un cocktail grillo. Dopo averlo bevuto, torna a casa e strada facendo nota un grillo per terra. Così si china e dice al grillo, Ehi, lo sai che c'è un cocktail che ha il tuo nome? E il grillo fa, vuoi dire che c'è un cocktail che si chiama Irving? Allora, chi di voi vuole perdere la virginità? Oh porco cacchio, c'è un'altra porta. Che facciamo adesso? Benvenuti nel cavo. Identificazione vocale, prego. Oh oh. Sono io, Carter, voglio i miei soldi. Voce identificata. Come diavolo ci sei riuscito? So imitare anche le vostre voci. Ciao, gente. Oh, ciao, Peter. No, sono io, Cleveland. Oh. Benvenuti nel cavo interno. Identificazione del pene. Di questa ve ne occupo io. Forte, come fai ad avercelo uguale? Non ce l'ho uguale, l'ho solo infilato dentro e si è rotta. E' ultimato. Se i miei calcoli sono esatti, sarà il cast di Star Trek The Next Generation a venire qui e a rispondere alle mie domande. Aspetta un attimo, qualcosa non va. E vai, siete pronte, ragazze? Faccio messo. Che sta succedendo? Non ridete di lui, ok? Scusa, non vorrei essere maleducata, ma non avresti una sedia più comoda con questa o mal di schiena? Oh, accidenti. Quagmire, ma com'hai fatto ad arrivare lì sotto? Chiedo scusa a tutti quanti. È che avevo tanta voglia di conoscerla. Non riesco a combinarne una giusta. Vado a parlare un po' con lui. Ehi, amico, dimmi, a che stai pensando? Che vorrei giocare a baseball. E allora perché non vai a giocarci? Perché non ho il guantone. Oh, sei sicuro? Accidenti, è per me, non è uno scherzo? Sì, è uno scherzo, non te lo do, è il mio. Oh. Già. Tieni nascosta quella creatura inquietante. Non voglio che mi rovini lo stile mentre ci provo con le pupe. Ci vediamo, troietta. E ovviamente proprio quando avevo trovato un ragazzo italiano. Sai, non ho ancora capito cosa faccia per vivere. Raccoglio delle monete sospese in aria saltando sui funghi. È così difficile da capire? Ciao, Meg. Facciamo una partita a due. Ho portato anche Luigi con me. Ehi, ciao, Meg. Mario mi ha detto che tu gli hai fatto delle cose strane. Ehi, Joe. Buongiorno, Peter. Sono qui per ritirarti la patente di guida. Cosa? Per chi? Allora, guida spericolata, disturbo della quiete. In più, la guidatrice di una delle vetture coinvolte era vergine e ha avuto l'imene perforato dall'airbag, quindi stupro. Ok, d'accordo. Puoi prenderti la mia patente. Solo che è qua su, in alto, in alto. Peter, da ciò taglio. Dammi la... Dammi quel cavolo di patente. Cos'è? Non lo vuoi, eh? Non sei spiritoso, Peter. Stai cominciando a farmi incavolare. Stai cominciando a farmi incavolare! Joe, lo devo proprio dire. Questa storia degli sbirri non è poi così eccitante. Quando è che possiamo sparare ai cattivi? Ragazzi, questo lavoro non è solo azione. e anche rimanere vigili in attesa che capiti qualcosa. Che stai facendo? Sto guardando Bonnie mentre si spoglia. Bonnie è tua moglie? Sì, lo so. Mi piace guardarla spogliarsi e far finta che sia una donna che non ho mai conosciuto ma che assomiglia a Bonnie e che vive a casa mia. Spogliati, puttana di rossosia! Spogliati, puttana di rossi! 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 Spogliati, rossi!